Percibiamo un saluto maggiore cordiale e buon venire a via la seczione di Nosturismo Pessimano qui. Nella onda ciò che presentiamo la informazione più importante di Nosturismo. Eagle Beach Arroba è qualificata tra i 25 migliori beach nel mondo e i 4 lugares come il suo più bonito del Carribe. È qui, secondo il Traveler's Choice Awards 2005, di TripAdvisor. TripAdvisor è il travel site più grande nel mondo, con più di 60 milioni di miemboli e riba di 170 milioni di review. Segur la Caribbean Tourism Organization, del anno 2014 a Arroba, dopo di Santo Domingo, ha conosciuto un crescimento forte nel Carribe per lo che è il turismo stay over. Adesso, con il anno passato, Arroba ha conosciuto un crescimento di 9.5% del turismo stay over, e il anno è qui, ha avuto un'immagine trend. Il anno 2015 è volto a marcare un crescimento substanziale. La cifra non ha dimostrato un crescimento di 21.7% di quantità di turismo stay over, in comparazione con il anno 2014. E sa che sta un'continuazione di differenti tendenze. Il mercato primario per Arroba, questa merca, ha conosciuto un crescimento forte nel 9.9% del lunedì anivari, come anche il mercato di Venezuela, che ha redoblato nel lunedì a qui, comparato con il messo del anno passato. Adesso, a conosciuto un crescimento di 9.5% nel anno 2014, per lo che è trattato stay over, non sta contando con un risultato più forte nel comienzo del anno 2005. Anivari ha conosciuto un crescimento di 21.7% di quantità di turismo stay over, comparato con il anno passato. Attualmente, in Alemanna, è popolare serie di televisione The Bachelor, da in sua culminazione, da un'arroba da centrale. Un'confrontazione, quando toma il lugar durante il toma na Old Fisherman and the Sea, da treza di l'anti e bonitezza di nos isli Arroba. Dopo questa filmazione di The Bachelor in Africa, la cifra di turisti aleman visitando il paese qui, ha aumentato significativamente. Arroba Tawar descrivì, per la sua popularità, la sua bonita beach lang e la sua gente amabile di media aleman, accentuando un biamas e la popularità di Nostucci Isla. E a Sina non se gana final di otra seccione di Nosturismo Pesimang Aki. Quedat pendiente pa' otro siman ora con nos lo trece mucho más informasión di Nosturismo. Mi compromiso, Tawarupa. Qual è un divo?